Salve a tutti ragazzi e bentornati al LOL Club Io sono Padman e oggi siamo qui per un nuovo snapshot Uno snapshot che prevede l'avvicinamento della 1.3 molto presto Questo è il 12W21A21 perché è la ventunesima settimana Visto che è saltato la ventesima per una festa che era in Svezia Non tiriamo niente, non accenniamo niente ancora nuovo Andiamo per gradi Nuova texture per la ghiaia Questa è la ghiaia diciamo che è più ciottoli che ghiaia Però nelle caverne diciamo che si vede molto meglio È più bella, molto bella perché dà quel contrasto con la pietra normale che è molto bello Altro aggiornamento sono questi scalini, i scalini di sandstone Che purtroppo non sono ancora riuscito a craftare Magari perché non li hanno ancora messi O comunque vedremo poi in seguito nel prossimo aggiornamento Uno dei aggiornamenti più belli, questa qua Sembra una chest normale, molto bella Si chiama la Ender Chest Ha una peculiarità molto simile Perché è simile diciamo che l'hanno presa proprio direttamente dalla Technic Pack Ovvero se noi abbiamo Se abbiamo due Ender Chest Vedete cosa c'è? Poi vi faccio vedere bene cosa sono questi nuovi oggetti Io metto tipo la mappa qua dentro E ce l'avremo anche di qui Io la posso ritirare E di qui non c'è più Comodo magari se si va in miniera E per scavare abbiamo le tasche pieni Appoggiamo una chest di queste Mettiamo la roba E questa ce la trasporta direttamente a casa Quindi non più capitava Ma almeno a me capitava di andare in giro Mettere una chest, mettere la roba e poi tornare indietro Ciao Vilco Vediamo come si crafta 8 pezzi di Ossidiana Quindi è un oggetto molto Molto abbastanza raro da creare Così E un occhio di Ender Non l'Ender Perle Quindi bisogna craftare anche l'occhio di Ender Questo è quello che si trova Che serve per il portale del Nether Per, scusate, il portale del D-Ender Ed ecco che in questo modo con Ossidiana E occhio dell'Ender in centro Creiamo questa Ender Chest Noi posso metterne un'altra E anche questa avrà la stessa roba Adesso sono in creative comunque Anzi, mettiamo dentro Altro aggiornamento Ebbene si ragazzi Un blocco nuovo Un blocco di tutto rispetto Perché aggiunge la mod bucket E-economy Ovvero la possibilità di comparare e di vendere oggetti Con chi? Con quel simpatico Con quel simpatico Con queste simpatico Vi farò vedere adesso Ok Nintendo Survival Ho qua 5 picconi I picconi di tutti gli elementi E vi farò vedere Con quali picconi si può raccogliere Il legno No, ovviamente Non si rimarrà un po' troppo semplice La pietra Neanche Sembra un materiale molto duro Passiamo l'oro L'oro che di solito È più veloce del diamante Migliore In questo caso No Sembra quasi peggiore Della pietra Mentre col ferro E con il diamante Ci crafterà questi oggettini Chiamati al momento diamante Ma comunque Il blocco Adesso vi faccio vedere Perché non me la prendi Sì Non sono Ok Il blocco Emerald Ore Ovvero Lo smeraldo È per quello che Dropa Questa pietrina Rossa Questa pietra verde Il fatto che però Ha questo rosso Non è molto bello Non è confondibile Con la redstone Sicuro Perché facendo Tasto destro Con la mano Normale Sulla redstone La redstone si accende E fa quella luce Che è un limite Bagliore Mentre questa Ha solo dei pallini E droppa questi Oggetti Verdi Questi smeraldi Proseguiamo Ora Nella In creative Ora avremo anche La neve Sotto forma Di Questa qua In poche parole La piana Quella da mettere Per terra E Nessun altro Aggiornamento Magari infatti La sandstone Stare La lander chest E i soliti oggetti Gli occhi del lander E in questo punto Il diamante Vicino al libro Ciao Perchè mi guardi Interagiamo proprio Proprio con questi Aspettate che prendo Abbastanza Diamante E Facendo con Una mano Qualsiasi Quindi un qualsiasi Oggetto che abbiamo in mano Tasto destro Sui villici Qualsiasi villico Ci aprirà Questa schermata In cui villico In alto E Il commercio Questo vorrà Un diamante Per Cinque d'anguria Ovviamente come avete capito Il diamante È la nostra valuta Ho messo Un diamante E lui mi dà Cinque d'anguria Grazie Finito Adesso vediamo Eccolo qua Finito Una Una compere Lui emetterà Questo fumo Finito Il fumo Almeno anche a metà Se Rifacciamo Tasto destro Lui ci sarà Una freccia Ovvero Possiamo Possiamo Effettuare Un'altra Operazione Anche Adesso Un altro Diamante Per quattro panni E così via Adesso Se ne va Però vedete Che è tutto È contento Perché abbiamo Comprato da lui Fermati Ok Anguria Pane E nuovo Stavolta Tre ne vuole Se ne è andato Ma comunque C'ho Questa aperta E ci darà Un accendino Ora Usate Ok Ok Così Usirà fuori Vabbè Ogni villico Potrà dare Cose diverse Sì Oggetti diversi Magari Anche il contrario Nel senso Vuole Ho già visto Tipo che vuole Cinque polli crudi E vi darà Un diamante Vediamo se questo Eccolo qua Ad esempio Questo vuole 22 di carbone E ci darà Un diamante Ovviamente Un villico Che fa Questo tipo Di commercio Può fare Anche il contrario E magari Nel prossimo Può fare Questo Quindi Diciamo Che Ci passare Anche la voglia Di ucciderli Perché Ci sono Proprio De veri Mercanti Prossimo Aggiornamento Ci sono Dentro Le Casette Le casette I villaggi Ora Sono Anche Nel deserto Per questo Che hanno Messo Gli ster L'unica Cosa Che rimane La terra Qua fuori Ancora E magari Sì È un giardino Questa foglia Che è un po' strano Vederla qua Nel deserto Però Comunque Vete Le case Sono sempre Uguali Questo È Il Negozio Diciamo Con Il bancone Ora Purtroppo In questo Beccato Un villaggetto Povero In cui Non c'è Né La torre Di pietra Ma comunque Al posto della pietra Fatto di questo Materiale E né Il fabbro Che purtroppo Non ho neanche visto Realmente Girando per le mappe Però Possiamo vedere Che è rimasto Anche questo Il grano Il grano Nel deserto Ha un suo effetto Un po' strano Comunque Esiste Vediamo questo Cosa mi dà Ah È quello del carbone Ok Prossimo Aggiornamento Non è finito Qua Ebbene Sì È stato Un aggiornamento Grande Magari Perché Si sono Stati Un po' In pausa Scusate Ho la mappa Perché Se no Mi perdo Ok Da questa Parte Si inizia A intravedere In lontananza Non sono Stato io A costruirlo Leggero Bug Che si può Percurare In questo In questo Posto Dove Non c'è Non c'è Sabbia Magari Per la finita Battutaccia Ok Sbrigiamoci Che Ho paura Di andare Out of memory Visto che Ho avuto Dei problemi Un po' Un po' Di tempo fa Vabbè Comunque Qui Bug della luce Oh Minecraft Scusate Minuscola Tanto Si vede Lo stesso Non sono Stato io A fare Questo rumore Se l'avete Sentito Ora rompo Per entrare Costruzioni Ragazzi In mezzo Al deserto Ora si possono Trovare Le costruzioni E Questo Spiegava Il nuovo Tipo Di sandstone Ovviamente Sono tutte Collegate Tra di loro Qua Questo è un bug Non dovrebbe essere Cioè dovrebbe dare Sul fuori Questo sarebbe Il livello 0 Qui sarebbe Sul fuori Questa è la piramide Centrale Mi scuso Per i scatti Ma Sono Ho un po' Il computer Appesantito Al momento E qui Ci sono le scalinate Luce Bug della luce Eh no Si vede che È tappata L'uscita Comunque Qui Questa Minecraft Mi scuso Continua Continua Scusarmi Questa è la piramide Come vedete Di due piani Secondo piano Anche E questo fuori Vedete Le due torre Con la piramide L'ingresso Ai due lati E Finalmente Quindi abbiamo La sandstone Normale Quella sempre avuta La sandstone Questa qui E Se riesco Ancora L'ana Comunque Se volete Saccheggiarlo È l'ana E Eccola qua La sandstone Quella con I creeper Quindi Finalmente Possiamo Vediamo E infatti Possiamo raccoglierlo Vedete Eccola qua Il nome che gli è andato Da poco Ora la rimetto Comunque Questa è la costruzione Quindi Diciamo che Dopo gli ultimi aggiornamenti Che hanno migliorato La giungla Ora hanno migliorato Il deserto Con le nuove costruzioni Anche con i villici Nel deserto Prima che Nei villici Nel deserto Avevano comunque Le case di legno Ora nel deserto Ce li hanno Di sandstone Quindi Niente Stiamoci al centro Facciamo la sua bella figura In questa piramide Dei creeper Ora sono in peaceful Comunque ci sono Mob Che spawnano Perché siamo Qui c'è buio Faccio gli auguri a Notch Che oggi è il suo compleanno Almeno in questi giorni Per quello C'è stato un contest Vi consiglio di andare Sul sito della Mojang Per un contest Che c'è E niente Ci vediamo Alla prossima settimana O magari qualche video prima Comunque Per gli aggiornamenti Ci vediamo Alla prossima settimana Qui dall'Hall Club Qui dall'Hall Club È tutto Un saluto da Padman E Ciao ragazzi Alt Scusate ma ho dimenticato Di piccoli aggiornamenti E Prendo Faccio vedere Che nello scorso video Mi ero Diciamo Non lamentato Ma Avevo fatto notare Che i libri Non si potevano più Droppare Con solo Tre pezzi di carta Grazie a degli iscritti Quindi vi ringrazio Da parte dell'Hall Club Mi hanno detto Che basta aggiungere Un pezzo di pelle Ecco qua La carta può essere messa Come volete Anche la pelle Tutto Quindi si può fare Anche nel crafting Quello manuale Quello che si ha Sempre con sé Tre pezzi di carta In qualsiasi posto E un pezzo di pelle Che Sarebbe Quasi la copertina Mi scuso Perché l'avevo anche Lasciato qua Solo che Me ne ero Completamente dimenticato Altro aggiornamento Questa volta Però Dall'ultimo snapshot Del 12W21A E in chat Se noi scriviamo Seed E diamo invio Lui ci dirà Il seed Della mappa Comodo Non credete? Magari Se siete in una bella mappa La volete dare ad un amico E non sapete come fare Memedesimo Basta fare così Slash Seed E come vedete è uguale Non cambia Non è che cambia Continuamente Quindi è questo Cosa che non ho detto prima Che i villici possono Darci Qualsiasi Oggetto In commercio Qualsiasi Questo vuol dire Anche Oggetti In diamante Spade Picconi Ovviamente Magari Chiederanno Anche 10 o 15 Emera Smeraldi E niente Mi scuso Per se non l'ho dimenticato Ho fatto in tempo Prima di caricare il video Quindi Ciao 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 Grazie.